Conduceva una doppia vita l'albanese di 42 anni arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver partecipato a più di 50 furti in appartamento in due anni. L'uomo, residente a Prato, è finito in carcere su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, al termine di una lunga indagine che ha impegnato i carabinieri sia di Trento che di Bolzano. Il 42enne avrebbe fatto parte di una banda organizzata composta da cittadini dell'Est Europa. Insieme a lui, in diverse città d'Italia, sono stati arrestati altri cinque uomini, tutti albanesi, tutti specializzati in furti in ville e appartamenti. Incensurato e del tutto sconosciuto alle forze dell'ordine, l'albanese vive da anni a Prato con la famiglia, moglie e figli e lavora come facchino. In due anni però, assieme ai complici, avrebbe arrotondato lo stipendio svaliggiando una cinquantina di abitazioni per una refurtiva che complessivamente ammonta al 50.000 euro. Per alcuni giorni i carabinieri hanno pedinato l'uomo, poi si sono presentati alla porta della sua abitazione, in Viale Vittorio Veneto e gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare. L'albanese è ora rinchiuso nel carcere della Dogaia.